La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Non ha visione politica né capacità manageriali. Può creare l'illusione collettiva e momentanea, ma non può risolvere i problemi del Movimento 5 Stelle. Con queste accuse gravissime, Beppe Grillo liquida Giuseppe Conte. Ora, premettendo che anche l'orologio rotto indica l'ora esatta due volte al giorno, devo ammettere di essere in questo caso pienamente d'accordo per una volta anche con le parole di Grillo. Ma non posso però che constatare quanto disonesto sia stato. Oggi ci fa sapere, per i motivi che lui stesso ha elencato, che Conte non è adatto neanche per guidare un partitino allo scatafascio, che ci ha abituati a vedergli fare tutto ed il contrario di tutto. Eppure, si tratta proprio dell'uomo che proprio l'oro dei 5 Stelle hanno voluto alla guida del paese in uno dei momenti più delicati e difficili della storia moderna. E l'hanno voluto a capo di ben due maggioranze e lo avrebbero voluto anche per la terza. A quell'uomo che oggi ritengono politicamente incapace e senza visione. Ma ci rendiamo conto di quanto disoneste siano queste persone, pronte a tutto per il proprio tornaconto, anche a passare sul cadavere di un intero paese. Ora, io onestamente non so cosa sia peggio per il movimento tra Grillo e Conte. Spero solo che gli elettori grillini onesti si ravvedano e la smettano di prestarsi a questa pantomima che è una disgrazia per il paese. Ripeto, capisco le motivazioni per cui molti italiani hanno appoggiato a suo tempo il movimento. Capisco perché siano rimasti ancorati, attaccati con le unghie a quel progetto che inizialmente ha fatto sognare a tanti, persone che hanno appoggiato quel sogno in assoluta buona fede, stanchi di tutto lo schifo che ruotava intorno ai vecchi partiti. Ma ora basta però, si rassegnino, lavorino tutti insieme a creare un'alternativa che riprenda con onestà le vecchie battaglie, il vecchio spirito, i vecchi programmi, con le anime rimaste pure, ma basta appoggiare questo movimento. Non è più resistenza, adesso diventa malafede e basta. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea La verità dietro i giochi di potere Con Francesco Amodeo